Bella a tutti ragazzi e bentornati in questa nuovissima serie qui di Megastica e Pelle e oggi siamo qui su Clash Royale che sarebbe il nuovo gioco della Clash of Clans Sono ancora a livello 2 perchè l'ho scaricato da poco, ovviamente sono su Android, non sono su Apple perchè prima l'avevo l'Apple ma poi forse non so se l'ho detto nei vecchi video ma ho cambiato telefono Comunque questo, no raga io sono a livello 2 però vado a capitare quelli che hanno i pecca, non ci posso fare niente Che schifo dai raga questo mi apre il culo, questo me lo apre, allora ovviamente dopo questa partita penso che mi metterò a fare un tutorial su come scaricarlo appunto questo gioco per Android Il gioco ancora non è uscito in Italia ma è uscito in altri posti sempre per Android quindi il file è sicuro, non danneggia il telefono e potete anche collegarvi col vostro account Il account si intende quello di Google Play cioè vi potete anche collegare Questo c'ha pure i draghetti cioè mi apre raga tal è un draghetto toglie un casino, allora quello ammazza c'è la Valkyria Ok già me lo sta ammazzando la Valkyria e c'è la Valkyria e sta morì, immagina che sono scarso Allora ora puntiamo a prendere il principe e mettiamolo qua, il principe è ancora a livello 1 perchè come ho detto ho cominciato da poco Allora ora tiriamo le Arrow appena lui posiziona qualcosa, ora sicuramente posizionerà qualcosa Tiriamo un gigante, allora speriamo, no raga manca pochissimo Tiriamo un gigante e lo spaccamuro qua che disturba notevolmente il suo gigante Lui il gigante l'ha al 2, io ancora all'1 però il gigante ce la dovrebbe fare Uccidiamo questi con le Arrow, ok mi sta distruggendo anche lui la Torre quindi posizioniamo questo qua No raga, no raga ce la devo fare, ce la devo fare, moschettiere, moschettiere, no raga me l'ha distrutta Peccato peccato, allora tiriamo questo qua, speriamo che non vada là Ok comunque sto registrando da Mobizen, Mobizen è un'applicazione che ti permette di registrare Oh raga no, raga non me ne ero accorto, non me ne ero accorto, mi ha aperto Raga abbiamo vinto, spero che questa partita vi sia piaciuta, ovviamente farò varie partite Ovviamente sempre in commentary, non so se la velocizzerò o va bene Comunque più 28 trofei, vabbè che ci sono vi faccio vedere il mio mazzo E mi pare che si vada qua, ok questo è il mio mazzo, so che non è eccezionale, queste sono le carte Potrei mettere queste, cioè gli arciari a posto delle Valkyrie o degli Spaccamuro Soltanto che gli Spaccamuri abbinati con il Principe oppure con i Giganti Sono scioccanti, cioè distruggono tutto Comunque ragazzi per questo video è tutto, noi ci vediamo al prossimo episodio Bella domani di Destroir